dove siamo ora? Gino Samarina e abbiamo una circonferenza di circa 30 cm. Questa 30 cm e giù quanto ce l'ha? Giù al base? 36 cm. Quanto acqua gli dai alla piantagione? L'acqua gli diamo due volte alla settimana, 12 ore a volta, quindi in settimana sono 24 ore di acqua a settimana. Qua ce l'hai un posto, due posti, quante posti sono? Quattro lotti, circa 15 ettari. Ok, acqua, te ce l'hai i gocciolatori ogni metro qua? Qua faccio un metro, questi saranno da 1,8 litro, mentre dietro abbiamo un passo da 80 e sono da 2 litri. Qua le ciglia sono lunghe circa un 400-500 m. 500 m? Sì, 420 m, 430 m, 450 m. Si vede la parte superiore, vedi che manca acqua. Manca acqua perché non arriva acqua dal cielo, è chiaro. dopo che arriva acqua qua, secondo me questa si deve ingrocciare ancora 5-7 cm questo anno. No, noi le pigliamo le misurazioni ogni mese. Fai anche questo, vediamo anche questo. Fammi anche questo, fammi anche questo. una media di 10 mm al metro. Quattro millimetri. Vediamo. E questa è più giù, più giù, un po', no, così, un metro. Una trentina di centimetri. 30, sì. Anche questa, vediamo un po', perché dopo ti dico, c'è anche questo. Qua abbiamo un altro impianto, sono messo in ritardo. Sì. Qua 29. 29, sì, è chiaro, cresce quando c'è l'acqua di cielo, molto meglio.